Per la sua esperienza cosa si intende per welfare di comunità? Welfare di comunità significa innanzitutto prendere atto che in una comunità, nella città di Fano per esempio, chi provvede ai bisogni delle persone non è soltanto la pubblica amministrazione, ma sono tutti i soggetti della comunità. Quindi la pubblica amministrazione, ma insieme alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, a tutte le persone che in regime di rapporto privato, le badanti per esempio, si occupano degli anziani e a tutte le famiglie che badano ai bisogni dei propri familiari. Ecco, welfare di comunità significa impastare tutto questo, vedere che tutto questo avviene dentro la comunità e porsi il problema di valorizzare questi apporti molteplici nel modo migliore, con una regia condivisa e consapevole. Cosa sono le fondazioni di comunità? Le fondazioni di comunità sono uno strumento, un'ipotesi di lavoro nata negli Stati Uniti. Si fonda sull'idea che ci possa essere un'organizzazione nel territorio che raccoglie risorse materiali dal territorio, quindi donazioni sostanzialmente o altre forme di contributo, e le rimette in circolo, le rimette a disposizione delle esigenze del territorio, soprattutto a supporto delle altre organizzazioni. Diventa un po' il polmone di sviluppo materiale del sistema complessivo del welfare di comunità, ma anche di iniziative culturali, ambientali, chi più ne ha più ne metta. Ognuno di noi ha una mission nella vita. Qual è la sua e il suo obiettivo più grande? Io ho fatto sempre lo start-upper e adesso anche in età un po' più avanzata continuo a fare lo start-upper. Mi piace inventare cose nuove, promuovere nuove iniziative che possano aiutare appunto i territori. Le sue emozioni in tutto questo? Non lo so, forse è più che altro un po' di passione, e soprattutto scoprire che facendo così si incontrano un sacco di persone stupende e si riceve molto, molto quotidianamente da ogni incontro.